e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video video potremmo definire a sorpresa perché è uscita una notizia interessata in verità da qualche giorno su una nuova funzionalità importante di airson in particolare quando uscirà la nuova espansione infatti verrà attivata proprio all'uscita della nuova espansione stiamo parlando comunque tra due mesi abbondanti quindi ci sarà un bel po di tempo però insomma sono delle novità che aspettavamo da tanti tanti anni e siamo sono almeno contento di poterla vedere in azione e inoltre ci sarà invece un'altra novità questa volta non su un'aggiunta ma bensì su una cosa che viene tolta che andremo a vedere sempre in questo articolo quindi andiamo a leggere tutto quanto stiamo portando alcune modifiche al weekend di prelancio il sistema di far side gathering dell'espansione attuale in vista dell'annuncio del periodo di rivelazione del lancio della prossima nuova espansione quindi come avete letto un sentito addio ai far side gathering se non siete avvezzi al mondo di airson e non conoscete queste speciali taverne praticamente sono degli eventi in gioco che potevi fare un pubblico o li potevi fare anche in server privati per poter andare a giocare con gli amici le nuove carte in anteprima o comunque poter andare a sbustare le nuove carte tuttavia era un evento che post covid si è andato a perdere un pochino col tempo perché ovviamente i raduni sono stati sempre meno e quindi hanno deciso di smetterli e quindi andiamo a vedere le implicazioni e come penseranno di ovviare a questa mancanza prima di tutto abbiamo preso la difficile decisione di abbandonare programma far side gathering nell'ottica di spostare l'attenzione su funzionalità e programmi più utili ai nostri giocatori in tutto il mondo quindi loro dicono va bene è vero che eliminiamo una cosa che ad alcuni piaceva ad altri un po meno però ci andiamo a concentrare di più sulle funzionalità future e sui funzionalità che ci sono già per andare a migliorare e a implementarle nel gioco questo significa che il sito i server e i pulsanti all'interno del gioco che riguardano i far side gathering saranno disattivati e rimossi prima dell'arrivo della prossima espansione alcune di queste modifiche sono già entrate in vigore altre sono previste con le prossime patch attualmente il sito pubblico far side gathering è stato chiuso ciò significa che non sarà più possibile creare far side gathering pubblici o privati e che non è previsto un weekend di pre lancio con i far side gathering per le espansioni future quindi nessun evento di pre lancio per le nuove espansioni un caloroso benvenuto all'apertura cumulativa delle buste infatti è vero che una funzionalità ci abbandona ma una e credo anche una funzionalità che sarà molto amata viene implementata infatti come potete vedere qui dall'immagine ora si potranno aprire più buste contemporaneamente ma leggiamo l'articolo per molti anni abbiamo osservato che le funzionalità più usate far side gathering era la creazione di eventi privati per l'apertura delle buste in anticipo durante i weekend di pre lancio con vengo con questa cosa anch'io facevo dei far side gathering privati per poter sbustare in anteprima l'espansione e poi andare avanti i giocatori desideravano soprattutto aprire le bustine in anticipo in modo da potersi buttare a capofitto nel gioco con la nuova espansione esatto il vantaggio di poterla aprire in un evento anteriore era quello che uscito aggiornamento potevi subito giocare non dovevi aspettare ovviamente quell'oretta per sbustare 200 bustine che poi alla fine era una perdita di tempo tra virgolette ovviamente per i giocatori che vogliono avere tutta collezione per i giocatori che magari possono aprire solamente 40 50 60 100 bustine questa è una cosa diversa perché ovviamente non possono pretendere di avere tutta collezione fin da subito e quindi insomma pensano al mazzo pian piano che vanno a sbustare siamo felici di annunciare che abbiamo aggiunto una nuova funzionalità che permetterà a tutti di entrare in azione più velocemente e con meno difficoltà rispetto al passato l'apertura accumulativa delle buste se hai cinque buste nello stesso tipo o più potrai aprirne fino a 40 contemporaneamente significa che basteranno una manciata di click per aprire tutte le buste ottenute dal preacquisto o da altri pacchetti di grandi dimensioni per accedere all'apertura accumulativa delle buste prendi una busta della tua pila e mantienila sopra di essa la busta si caricherà di energia e inizierà ad attirare altre buste ed aprire una volta raccolte tutte le buste che desideri trascinale sull'area di apertura e rilascia il mucchio direi che vi vado a zoomare l'immaginina per capire un po meglio hanno già detto che cambiano questa applicazione come vedete voi andate a selezionare una busta piano piano aumentano da quello che ho capito saranno di 5 in 5 non di 1 in 1 poi appoggiate qua si apre una bustina che in verità escono tantissime carte perché ovviamente sono 30 buste in questo caso qua vedi gli highlights quindi le carte salienti le carte migliori e poi ti arriva un riepilogo con le leggendarie le epiche le comuni e le rare che sei andato a trovare e tu va l'interfaccia a questo punto ti mostrerà i ritrovamenti migliori delle tue buste che puoi svelare una volta o tutti insieme poi passerà una schermata risultiva di tutte le carte trovate nella pila di buste tutte carte si troveranno nella tua collezione come di consueto dove potrai consultarle e usarle per la creazione dei mazzi dopo aver aperto tutte le buste l'apertura accumulativa delle buste viene richiesta da molto tempo e siamo felici di poterla mettere a disposizione dei giocatori prima della prossima espansione chi desidera aprire subito tutte le buste per acquisto potrà farlo in un attimo e chi invece ama aprire ogni busta singolarmente e assaporare il bottino di ciascuna potrà continuare a farlo ecco appunto stavamo parlando dell'utilità ci sono alcuni giocatori che non gli importa hanno una collezione quasi completa e vogliono aprire tutto quanto subito intanto le cose che non trovano poi se le craftano e i giocatori invece che se lo vogliono gustare con questa nuova funzionalità molto molto bella si rende molto più vivibile il gioco molto più semplice e sono assolutamente d'accordo poi io prendete da content creator andrò a sbustare 200 pack uno per uno così almeno potremmo discutere delle varie bustine delle varie carte trovate però se non creasse contenuti probabilmente farei così di mano in mano e gli eventi della community sappiamo che per alcuni giocatori far side gathering rappresentavano un'occasione per interagire con la community di airson più che per aprire le buste e con grande emozione che torneremo alla blitz con quest'anno per festeggiare in grande di persone i giochi e la community blizzard airson sta preparando qualcosa di particolare divertente per la blitz con perciò non perdetevola cosa importantissima perché io vi vorrei ricordare che da tabellone abbiamo avuto abbiamo tre espansioni in in quest'anno la prima aveva avuto delle novità importanti la seconda abbiamo visto che ha avuto delle novità importanti però ci sarà anche la terza la terza che prevede probabilmente una novità interessante proprio con che considera con i blitz con blitz con che per chi non sapesse è l'importante fiera del mondo world draft del mondo anche overwatch e senza dimenticare ovviamente il mondo degli altri giochi connessi a world warcraft heroes of the storms diablo eccetera eccetera quindi sono un evento di importanza mondiale importanza mondiale e per questo motivo di sicuro arriveranno novità importanti anche per il gioco di airson stiamo anche sondando le opzioni per nuovi eventi volti a consolidare la community più concentrati sul lato digitale come l'attivazione recente del community day ecco il community day per chi non si ricordasse era quell'evento che hanno fatto proprio in gioco dove avevano reso disponibili un sacco di twitch drop stati molto divertenti e soprattutto una fonte di carte incredibile e di dust allucinante super apprezzate se vogliono fare più community day noi accettiamo super volentieri per avere un sacco di bustine in modo gratuito inoltre continueremo ad ampliare programma creatori e usarlo per aiutare i creatori in crescita nella community le nostre community digitali sono appassionate e sono così vaste da superare la nostra capacità di incontrarli in persona per questo siamo alla ricerca di modi sempre migliori per soddisfare questo pubblico globale io pur non essendo effettivamente un programma all'interno del programma di creatori di blizzard devo dire che ringrazio tantissimo per l'opportunità sempre che mi danno magari per avere qualche bundle da regalarvi e qualche informazione interessante in più sono davvero gentilissimi e appunto è di sicuro un premio che notino anche piccoli creatori contenuti quali possa essere io anche se non mi definisco tale mi definisco più un appassionato che condivide con voi la propria passione appunto che riguarda airson e le risse far side e le risse speciali dei far side gathering non saranno più accessibili nei far side gathering ma potranno rientrare nel programma delle risse normali quindi comunque non si andranno a perdere per quelli che amavano le risse far side gathering non so quanti fossero però se fosse tra di loro sappiate che rientreranno nelle risse per fare un esempio di recente abbiamo aggiunto la rissa per modelli dei mazzi al lancio di ogni espansione stiamo ancora pensando a cosa fare in questo spazio e ci interessa la tua opinione esatto molto interessante la rissa appunto che vi permette di andare a giocare i primissimi giorni dei vari mazzi con le nuove carte in modo che qualsiasi giocatore possa provare le nuove carte in anteprima e poi decidere magari che mazzo andare a craftarsi e per giocare con gli amici è sempre possibile sfidare un amico dall'elenco amici potrai anche continuare a trovare i giocatori vicini quando tu e altri giocatori siete collegati alla stessa rete con una rete e un dispositivo che sopportano tale funzionalità è l'impostazione abita amici vicini è abilitata nell'impostazione di privacy del gioco questi strumenti rimangono i migliori per chi intende organizzare i propri eventi e giocare con altre persone quindi sappiate che tranquillamente potrete continuare a giocare con i vostri amici e per quanto riguarda nebsi è il dorso delle carte del far side gathering sì perché per chi non lo sapesse chi partecipa a questi eventi aveva una skin e un dorso gratuito a sì nebsi la nebsi frizza tenebre originale è uno dei modelli più iconici e ricercati nel gioco inizialmente si otteneva partecipando a una rissa far side in un far side gathering di qualificazione per anni abbiamo sentito giocatori preoccupati di non riuscire a trovare nebsi per via dei requisiti fisici necessari per il suo ottenimento visti gli aggiornamenti annunciati intendiamo aggiungere un modo che permette ai giocatori di ottenere il ritratto eroe nem si frizza tenebre e l'orso delle carte i far side gathering nel gioco condivideremo ulteriori dettagli quando saranno pronti quindi non temete se non siete ancora riusciti a riscattare questa skin in futuro ne avrete tranquillamente la possibilità ai locandieri ai fan agli amici e alle famiglie che hanno organizzato un far side gathering o vi hanno partecipato grazie essere sempre una parte importante della storia della community di aerson vi aspettiamo tutti nella locanta che dire insomma delle importanti novità per quanto riguarda soprattutto l'apertura delle buste una novità che cambierà finalmente il gioco per sempre in quanto non dovrà tediare i giocatori con davvero tante buste nell'aprirle una per volta una notizia che rende di sicuro il gioco più moderno più fruibile è una notizia che mi rende molto molto contento per quanto riguarda l'uscita delle far side gathering non mi importa tanto non ci partecipavo andavo a sbustare prima per lo più solamente per avere un vantaggio e giocare immediatamente subito la nuova espansione appena uscita ma appunto ora che ero che carico anche lo spacchettamento su youtube non aveva nemmeno senso troppo questa funzionalità quindi super contento che si è cambiata e via insomma direi che per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto e ultimo piccolo rimander prima di chiudere chiudere stiamo parlando che mancano davvero pochi giorni per riscattare gratuitamente le tre buste vi ricordo con amazon prime se avete prime gaming potrete tranquillamente riscattare tre pacchetti standard completenti in modo gratuito basta fare accesso con il vostro account amazon prime collegare vostro account e poi potrete quindi andare a riscattare qui direttamente i tre vostri pacchetti che poi vi ritroverete secondo il nick è direttamente nel vostro account quindi fate o non scordate perché mancano solo nove giorni alla fine della cosa poi probabilmente ci sarà qualcos'altro passati questi nove giorni quindi direi che ora è davvero tutto noi ci vediamo domani con una nuova vigua e niente ciao ciao